Mi sentite? Vogliamo offrirvi un brano molto bello, Cristiana, Lucia, 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 Lucia. Questo è quello di Toots Tillman, Lucia, che ha scritto Toots Tillman, che suonava la chitarra molto bene, poi dopo ha avuto una malattia e non ha più potuto suonare la chitarra. E' andato avanti con la nuova bocca, fantastico. E ha scritto questo blueset e siamo sentiti un po' di tempo fa e mi diceva che adesso lì non suona più perché ha 95 anni. E ha detto, evviva blueset perché mi ha arricchito. Tutto il mondo ha suonato questo qui. E' contento di toro a suonare questo brano. Sono contento per lui. E' un brano nato a tre quarti, a Valse. Poi però noi abbiamo pensato di farlo a Bossa Nova. Siete contenti? Siete contenti? Grazie a tutti.